Quando accende la pipa, l'attenzione per la fiamma di mezzo al fanello che alla prossima tirata dovrebbe lasciarsi aspirare fino in fondo al fornello dando inizio la lenta trasformazione in braccia dei fili di tabacco non deve fargli dimenticare nemmeno per un attimo l'esplosione di una supernova che si sta producendo nella grande nube di Magellano in questo stesso istante, cioè qualche milione d'anni fa L'idea che tutto nell'universo si collega e si risponde non l'abbandona mai Una variazione di luminosità, la luminosa del granchio o l'addensarsi di un ammasso globolare di Andromeda non possano avere qualche influenza sul funzionamento del sud di radischi o sulla freschezza delle foglie di crescione nel suo piatto di insalata Grazie a tutti! La conoscenza del prossimo passa necessariamente attraverso la conoscenza di se stesso Uno, prima ancora di mettersi a osservare gli altri, dovrebbe sapere bene chi è lui Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!